Intanto salutiamo Alessandro Ranellucci, che siamo onoratissimi di averlo qui perché è veramente un mito, quindi un uomo e una leggenda. Per chi non lo sapesse, tutti quelli che hanno una stampante 3D dovrebbero dare un centesimo se resti un miliardario. Lui è l'artefice di Slicer, il programma per stampare gli oggetti con la stampante. Tra l'altro non sei neppure programmatore perché sei architetto, giusto? Sì, di formazione sì, però programmo sin da bambino. Però ha fatto questa cosa incredibile e questo programma è usato in tutto il mondo, è il migliore che c'è per stampare in 3D. Per oggi non è qua a parlarci di Slicer perché oltre a essere l'inventore di Slicer, è anche il referente della comunità open source e dei vari maker legati al mondo Arduino. Non so se l'ho detta bene, Massimo correggi tu. Comunque, adesso ci presenterà qualche novità del mondo Arduino e noi siamo onorati di averlo qui anche in questa veste che è veramente importante, è un contributo di grandissimo valore. Lasciamo il campo a te e noi spariamo questo punto, va bene? Spariamo. Grazie. Ciao Alessandro. Ciao, grazie Pier, grazie Paolo. Intanto complimenti per questo bel format molto leggero e molto piacevole. Io, allora, io sì, guarda, io sono entrato in Arduino non moltissimo tempo fa e la cosa di cui mi sono reso conto entrando è che c'è tantissima carne al fuoco. Cioè, ho trovato un ambiente di tanti ragazzi, ingegneri, esperti di tanti ambiti che portano avanti una miriade di progetti in parallelo e quindi io mi sono detto, ma se anche io faccio fatica a tenere in mente tutto quello che sta succedendo, mi sa che là fuori c'è un sacco di gente che magari si è persa qualche puntata. E quindi mi sono preso un po' l'iniziativa oggi di provare in 15 minuti a lanciare 11 notizie che magari molti di voi già conoscono, però insomma fare un riepilogo di 11 cose che secondo me non tutti sanno. Allora, non so se potete mettere il mio schermo, se potete proiettare le slide che sto mandando, grazie. Allora, vediamo se ce la faccio. 11 notizie in 15 minuti. Va bene, prima notizia. Intanto sono 15 anni, Arduino compie 15 anni. Era il 2005 quando nel famoso bar di Ivre, vabbè la storia la conoscete tutti, ed è cambiato, ed è cambiato molto in questi 15 anni. Abbiamo festeggiato quest'anno un Arduino Day un po' particolare in cui i 500 eventi in giro per il mondo si sono tenuti un po' da casa, un po' online, diversamente dal solito, però comunque sono sempre 15 anni. Che cos'è oggi Arduino? Oggi Arduino in realtà è nato come, come ben sapete, progetto open source e community, Arduino oggi è anche un'azienda. È un'azienda di 120 persone distribuite veramente in tutti gli angoli del mondo, in decine di nazioni, e che fa tantissima ricerca e sviluppo. È un'azienda che quindi ha un modello di business composto da hardware, software, servizi, poi c'è la parte di cloud che vi presento, eccetera, e che servono a finanziare questa ricerca e sviluppo. Si fa moltissimo open source messo a disposizione di tutti. Voi tutti sapete che l'Arduino IDE è uno strumento che si usa non solo per le schede Arduino e che è a disposizione di tutti. Non è l'unica cosa, oggi ve ne mostrerò altri, che nascono grazie a questi ricavi che vengono reinvestiti in ricerca e sviluppo. E poi Arduino sono oggi più di 30 milioni di utenti attivi, che insomma è un numero che fa abbastanza impressione. Notizia numero due. In questi due mesi che cosa è successo? È successo che tanti gruppi e community intorno al mondo si sono messi insieme per realizzare dei dispositivi medici, ma anche non medici, legati alla pandemia. In particolar modo c'è stato un grande movimento in Italia, soprattutto in Spagna e negli Stati Uniti, per costruire respiratori polmonari open source. E praticamente tutti questi progetti erano basati su Arduino. Quindi quello che abbiamo fatto è stato cercare di far parlare questi gruppi tra di loro, organizzando questa grande conferenza virtuale in cui tutti questi progetti si sono raccontati. E quello che abbiamo fatto è stato anche aiutarli nel reperire i componenti. Perché c'è un aspetto che in queste condizioni di crisi emerge, che è quello delle supply chain, le forniture. Cioè quando si rompe questo sistema globale per cui i prodotti fanno il giro del pianeta e magari la Cina, come è successo, si deve fermare per qualche mese, si ferma tutto. E quindi Arduino in questo caso, visto che è made in Italy, viene prodotta in Piemonte, eccetera, eccetera, in realtà paradossalmente, la piccola Arduino, in realtà è stata l'unica che è stata in grado di fornire migliaia di pezzi di schede a tutti questi progetti che stavano cercando di fare forniture per questi dispositivi. Quindi sono stati due mesi veramente intensi, veramente interessanti e quello che stiamo facendo, anche ora che la crisi sembra rallentare un po', è di raccontare nel blog Arduino tutti questi progetti con cui abbiamo collaborato in questi mesi, perché poi le sfide di progettare dispositivi open source, facili da fabbricare, ma anche poi certificabili, eccetera, eccetera, è una sfida molto interessante. Diciamo, è quando i maker escono dalla loro zona di comfort e si confrontano con le esigenze vere del mondo e queste sono esigenze molto serie. Va bene, notizia numero tre. Allora, le Nano, va bene, io non sono qui per vendere niente, ma solo per, però non lo so fare, ma per darvi in realtà una notizia a chi se la fosse persa. La classica vecchia, buona, vecchia Nano, che esiste ancora ed è diffusissima, in realtà è stata accompagnata un po' di mesi fa da altre quattro Nano che sono molto sfiziose. Io ho messo solo un prezzo lì, veramente non perché voglio vendere niente, ma per dire che meno di otto euro per questa schedina qui in realtà cambia molto rispetto a quanto costava la Nano tradizionale. Ed è molto più potente, come vedete dai numeri, eccetera, eccetera, e poi ha questa novità dei castelletti pazzi, no? Vedete, i pin sono un po' diversi, no? Sono portati fino al bordo della scheda. Questo perché la scheda è liscia sotto e quindi si può saldare direttamente su un'altra scheda senza bisogno dei pin e dei pin header. Per cui in realtà questa è una novità che la rende particolarmente comoda. E poi vedete sulla destra quelle che ha con la connettività, quindi c'è il Wi-Fi, c'è il BLE, si parla molto di BLE ora anche per tutte queste applicazioni di social distancing, eccetera. E poi c'è questa che a me diverte molto, che è la BLE Sense, che sopra ha il microfono e una serie di sensori che la rendono particolarmente divertente da usare per una serie di applicazioni. E poi vedete quella con il Wi-Fi ha anche il crypto chip, che lo ricorderò tra poco, è fondamentale quando vuoi fare dispositivi connessi anche embedded e non puoi prescindere da un po' di criptografia. Tutto questo, lo ricordiamo, rimane open source hardware, quindi con i file scaricabili, eccetera, eccetera. Quindi il principio è rimasto intatto. Arduino cresce come azienda, ma i principi rimangono gli stessi di sempre. Notizia numero quattro, la Pro IDE, forse qualcuno di voi l'ha già provata, è una nuova IDE basata sullo stesso motore diviso al studio code, quindi ha tutte le funzioni avanzate di un editor di codice moderno, in più ha un debugger integrato con tutti i breakpoint, le funzioni che conoscete, ed è particolarmente comoda per progetti complessi in cui avete, ad esempio, più file, eccetera. Quindi vi consiglio di provarla perché, diciamo, è rivolta agli sviluppatori un po' più avanzati, come immagino siete voi che seguite questa conferenza. Notizia numero cinque, riga di comando. Questo è un lavoro molto impegnativo, a cui stanno lavorando tre persone da due anni, che è di fatto un tool, la riga di comando, per fare tutto quello che si fa con la IDE. Quindi compilare gli sketch, flasharli sulle schede, gestire i core, gestire le librerie, eccetera, tutto da riga di comando. Questo è comodo perché si può integrare con tutti i vostri script, le vostre automazioni, altri editor, ma anche perché ci potete costruire delle continuous integration, ad esempio su GitHub, per testare automaticamente il codice che fate, e una serie di altre cose. È un tool un po' avanzato, però sfizioso per chi non ha paura della riga di comando. Notizia numero sei, questa è molto tecnica, ma un lavoro che stiamo facendo è quello di mettere a fattore comune tutti i core, che sono le implementazioni dell'API di Arduino per tutte le varie architetture, sotto forma di un unico repository, un'unica base di codice più astratta, che è un layer hardware independent, che contiene tutte le API di Arduino. E questo è un lavoro di codice open source, che è bene che sappiate che è in corso, anche perché non ci sono solo le schede di Arduino, ma come sapete, le API di Arduino sono usate da tutta una serie di altre schede nell'ecosistema, e quindi, diciamo, lo sforzo che si sta facendo è proprio quello di tenere ordinato questo layer. Notizia numero sette, esiste un IoT Cloud, esiste questo servizio che è cresciuto molto, sta per uscire dalla sua beta, ed è particolarmente comodo perché con poche righe di codice si collega una qualunque scheda all'IoT Cloud, e quindi si possono costruire queste dashboard, visualizzare i dati, accendere o spegnere variabili che poi vi ritrovate in tempo reale, riflesse nel codice del vostro sketch Arduino, quindi si preme quel pulsante via web e una variabile sul vostro Arduino cambia di stato, e in questo modo potete fare un'automazione in tempo reale. L'IoT Cloud è, diciamo, molto facile da usare e molto comoda, quindi vi invito a provarla perché con dieci minuti vi fate un'idea di, diciamo, di che cosa vi può fare. Un messaggio che vorrei ricordare è questo, siamo nel 2020, non c'è IoT senza sicurezza. Crittografia, sempre, c'era quella famosa battuta che diceva la S nell'acronimo IoT sta per sicurezza, cioè non c'è, normalmente, no, nel 2020 ci deve essere crittografia basata su certificati, e quindi sulle schede Arduino che hanno connettività è stato messo un crypto chip, un MCC 508 o 608, che permette di mantenere delle chiavi private e quindi di parlare con il cloud, non solo con quello di Arduino, ma anche con gli altri, in sicurezza. E questo è un messaggio importante, ricordatevi, non sottovalutate anche quando fate un progetto personale. Notizia 8, per il mondo più, meno maker, questo non è una cosa maker, questo è per il mondo industriale, professionale, eccetera, esiste questo oggetto che sta per essere consegnato dopo un po' di mesi di attesa, che è la portenta, che è una scheda con il fattore di forma dell'MKR, che però è pensata per ambienti industriali, mission critical, vedete, per esempio, per fare giusto un esempio, il range di temperature, da meno 40 gradi a più 85, quindi è tutta una componentistica, diciamo, di alto livello, ha due core, due core, come vedete, quindi si può anche far girare in parallelo, non so, Python, invece C, embed nativo, ha una GPU, ci si può staccare un monitor, eccetera, e poi ha questo concetto un po' nuovo, che sono, per lo meno per le schede Arduino, che sono questi due high density connector, ciascuno con 80 PIN, quindi in realtà è una scheda molto compatta, che però ha un numero veramente elevatissimo di PIN, che si possono tirare fuori in delle apposite carrier, ed è un mondo nuovo che, insomma, comincerà dalle prossime settimane in poi ad essere esplorato dalla community. Notizia numero 9, esiste un certification program, magari non interessa a tutti, però a quanti, ad esempio, insegnano, oppure fanno consulenza, questo è stato richiesto più volte, questo è un programma di esami e certificazione ufficiale per le competenze legate ad Arduino. Esiste, è disponibile online, mi pare che sia in otto lingue, tra cui anche l'italiano, ovviamente, ed è a disposizione per chi abbia, diciamo, la necessità, la voglia di certificare il proprio livello di competenza. Notizia numero 10, che mi fa molto piacere, questo è del mese scorso, il forum ha raggiunto un milione di utenti, insomma, un forum con un milione di utenti registrati fa quasi paura, lo stiamo tra l'altro per migrare su una nuova piattaforma un po' più moderna, più con tante funzioni, però insomma, mi fa piacere dirvi questa notizia. E infine, notizia numero 11, esiste un, abbiamo lanciato questo esperimento, un format su YouTube che si chiama Bar Arduino, sia in versione italiana, sia in versione inglese per il resto del mondo, tra l'altro anche Paolo è stato nel primo episodio, e ogni lunedì sera la versione italiana, sono quattro chiacchiere al bar, in cui si raccontano progetti, i propri progetti, e si scambiano idee con la community, quindi vi invito anche, se volete, un lunedì sera a divertirvi con noi. Potrei andare avanti, ma meglio che mi fermo qui. Queste sono, diciamo, le principali cose che volevo raccontarvi, e che sono possibili grazie alla community, e grazie ovviamente a chi, o a chi dona al progetto open source, o a chi compra prodotti Arduino, di poter rilasciare, e a far avanzare tutta questa ricerca e sviluppo. Grazie mille Paolo e Pier. Grazie a te, grazie anche ad Arduino, nel senso di tutto il team e della disponibilità che ci avete dato. È stato veramente piacevole. Ti abbiamo fatto correre, veramente, col coltello appuntato, però se mi va possiamo rifare, come dicevamo, magari un approfondimento nelle prossime settimane, che, diciamo, ai nostri vari follower farà molto piacere. Bene, allora, un carissimo saluto e ancora grazie. Grazie Alessandro. Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao, ciao.